Il nastro delle dichiarazioni degli ex collaboratori Vincenzo Candura e di Vincenzo Scarantino è stato riavvolto dalla procura di Caltanissetta durante la requisitoria del sostituto procuratore del processo sul depistaggio della strage di Via D'Amelio. Nel pomeriggio di ieri il PM Stefano Luciani si è soffermato sulle dichiarazioni di Candura e sull'informativa redatta dai carabinieri che lo arrestarono qualche settimana dopo l'eccivio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. In quell'occasione Candura avrebbe detto a chiare lettere che non c'entrava nulla. Anche l'avvocato Gioacchino Genchi durante la sua escursione ha raccontato un episodio che si è registrato durante un interrogatorio di Candura e al quale lui stesso ha partecipato insieme ad Arnaldo Labarbera. Un interrogatorio senza fonoregistrazione ma a dire dello stesso Genchi si è tenuto con delle pause quasi a voler ricercare il consenso dell'interlocutore. Il fatto che Vincenzo Scarantino sia stato indotto ad una falsa collaborazione con la giustizia è un dato provato perché c'è scritto nel Borsellino Quater e la sentenza è passata in giudicato. Nelle dichiarazioni di Salvatore Candura, Francesco Andriotta e Vincenzo Scarantino vi sono anche elementi di verità suggeriti dagli inquirenti. L'adeguamento delle reciproche versioni deve ora essere individuato quale spia dell'indottrinamento dei tre, in particolare durante il ruolo avuto dai colloqui investigativi. Lo sforzo che si sta facendo è rappresentare gli elementi per individuare gli autori della falsa collaborazione di Scarantino. ha concluso il PM, rinviando il proseguo della requisitoria ad oggi, durante la quale verranno rese note le richieste della parte della Procura Nissena. Il PM ha anche parlato di un cannovaccio ben definito, facendo riferimento anche alla nota del centro Sisde di Palermo, trasmessa a Roma nell'agosto del 1992, quindi qualche settimana dopo la strage di Via D'Amelio e con cui fu informato l'ufficio centrale sull'ufficiosità che la Polizia di Stato già aveva significativi elementi informativi in merito alla vettura utilizzata per l'attentato al giudice Borsellino.